Io ho avuto ben pochi alunni dotati della tua intelligenza, ma anche di come sai fare con la gente. L'ascesa di un prete nella chiesa cattolica. Lei è ambizioso? Oh no, ho già riconosciuto tutti i siti. Lei va viceparroco a Stafuri. Tra disagi interiori. Io non critico la legge di Dio, soltanto non voglio essere io quello che lei impone. E crisi personali. Io sto per innamorarmi di lei. Io sono già innamorata di te. Il Cardinale, lunedì alle 20.55.